Panel numero 3, a chiusura del brokerage event transizione sportiva e rigenerazione urbana, sfide, opportunità e soluzioni. Stiamo andando in diretta con Zoom, ci sono un centinaio di persone che ci stanno seguendo da tutta Italia. Nel frattempo stiamo lavorando anche con Wispress che riceverete tra un po', c'è Elena Fiorani che sta lavorando da Roma per l'impaginazione e troverete già i video dell'apertura che abbiamo fatto col sottosegretario, col presidente di ASVIS, con la presidente di ICS e con Tiziano Pesce. Troverete già i video e un riassunto di questa apertura. Panel 1, Panel 2 e Panel 3 che andiamo a iniziare li troverete nei prossimi giorni trattati nel nostro sistema di comunicazione sul sito. Allora, abbiamo guadagnato un po' di tempo. Francesco Turrà, responsabile politiche ambientali Wisp. A te l'onore e l'onere di aprire questo panel. Poi a seguire Matteo Ruggeri, Matteo Ruggeri eccolo. Allora Matteo se ti vuoi sedere, aspetta ti faccio posto io anche perché poi condurrà Francesco Turrà. Matteo Ruggeri, Daniele Mirani, Francesco Moledda e Tiziano Pesce che... No, vabbè, poi dopo allora... Perfetto, a te Francesco. Buon pomeriggio a tutte e a tutti, siamo in chiusura con quest'ultimo panel che riguarda appunto il ruolo dello sport nei piani di mobilità. Il progetto Sport per tutti ha all'interno proprio un asse specifico che riguarda questo tema, che prova a rispondere a questa domanda. L'asse Wisp for Sustainability ha proprio lo scopo di sperimentare pratiche di promozione di mobilità dolce nelle tratte casa lavoro e casa sport, scuola sport, lavoro sport. E all'interno è presente una sperimentazione sempre su questo tema che riguarda tre impianti, Bari, Bologna e Roma. Questo perché? Questo testimonia, secondo me, l'impegno concreto di Wisp di fornire strumenti alle comunità. Gli attrattori sportivi, gli impianti, comunque sono attrattori di mobilità, perché comunque richiamano un pubblico che ci si deve recare. E quindi questo progetto vuole appunto fornire degli strumenti, vuole sperimentare delle pratiche alternative per il raggiungimento quindi della pratica sportiva. E questo, oltre a rappresentare un concreto impegno nel declinare il tema dello sport sostenibile e il ruolo dello sport all'interno dei piani della mobilità, è anche una sperimentazione che, come dire, oltre a rappresentare un modello replicabile, rappresenta anche un tipo di impegno, un impegno di tipo bottom up, dal basso, quindi che vede per prime le comunità impegnate nelle sperimentazioni e che, oltre a dare un esempio, può fornire a queste stesse comunità dei modelli per rispondere a delle criticità, magari che possono esserci anche a livello politico, perché i piani della mobilità dovrebbero essere implementati a partire dalle amministrazioni. Laddove questo non avviene, questo modello può fornire degli strumenti affinché le organizzazioni sportive, chi gestisce un impianto, possa organizzare dei modelli e, come dire, farsi veicolo di un processo appunto dal basso. Secondo me anche gli interventi che eseguiranno rispondono a questo approccio funzionale, cioè all'analisi del bisogno e al fornire alla comunità di riferimento degli strumenti per ovviare a questa necessità. Quindi, senza ulteriori indugi, passerei la parola all'assessore. Ripetiamo ogni volta, perché, ripeto, poi avrete dei video di riferimento ed è bene dare indicazioni precise. Allora, Matteo Ruggeri, assessore allo sport, benessere e aggregazione sociale, Casalecchio di Reno, Bologna. Esatto. Intanto ringrazio la WISP, ringrazio anche la Polisportiva Masi, GM Servizi e Reno Sportiva, che sono due dei principali gestori. La Polisportiva Masi, invece, penso che la conosceranno in molti qui, che è la polisportiva più grande di Casalecchio, ma probabilmente una delle più grandi in regione Emilia-Romagna, che ha voluto aderire a questo progetto, che è un progetto davvero interessante sulla mobilità sostenibile Casa Sport ed è un progetto che va anche in linea con le previsioni di medio periodo, perché, voglio essere sincero, non sarà una cosa magari che accade già l'anno prossimo, però nel medio periodo, per chi conosce la cittadina dello sport, e cerco di essere veloce nel raccontarla, è una struttura che ha un impianto ciclistico, sia su strada che su sterrato, con un anello che va oltre il chilometro per insegnare soprattutto ai ragazzini a girare in sicurezza e per quello che riguarda il ciclocross, invece, sta diventando, con l'ampliamento che è in essere adesso in una zona che era adibita a Campososta, che è stato superato, e quindi abbiamo pensato, insieme a coloro che lo gestivano, di inglobarlo dentro questo circuito, sta diventando un circuito di livello, ha già ospitato anche due gare nazionali di ciclocross, ed essendo un posto permanente, chiaramente è un po' più comodo e facile riuscire a fare questo tipo di competizioni. Poi c'è il nostro palazzetto, che è il Cabral, Jimmy, che è una palestra di ginnastica artistica e anche di pesistica, però soprattutto per l'artistica è davvero un progetto innovativo che ha già anche pannelli solari, alcune, anche l'arrampicata, mi suggerisco, avevo saltato alcuni pezzi, e poi c'è il circolo tennis, anche questo in fase di sviluppo, perché sono tutti quanti impianti dati in convenzione e i nostri gestori hanno già inserito alcune progettualità concordate appunto con l'amministrazione anche per il risparmio energetico. Chiaro che tutto ciò che è successo tra Covid e Cara Energia ha preso tutti un po' in contropiede sulle tempistiche, cioè saremmo dovuti essere già al punto di caduta, mentre noi invece eravamo nel punto di costruzione, diciamo di un inizio di percorso da questo punto di vista e quindi chiaramente come tutti siamo stati presi in contropiede. Tornando alla mobilità sostenibile, la ricerca che è stata commissionata da WISP, volevo sottolinearne un pezzo che mi ha sorpreso parecchio, diciamo mi ha colpito, perché non immaginavo così tanto il 54% delle persone che utilizzano delle persone intervistate sono entro il raggio addirittura dei 5 chilometri dalla cittadella dello sport e quindi davvero si va a toccare con la mobilità alternativa, cioè andando in bicicletta o col carpooling, ma secondo me assolutamente in bicicletta anche nel raggio di 5 chilometri, se si passa a 10 arriviamo al 74% degli utenti, perché Casalecchio sapete la caratteristica di essere molto concentrata, non so se tutti la conoscete, però ha tanti abitanti, però siamo tutti abbastanza vicini, quindi tutti coloro che abitano in zona nel comune e frequentano la cittadella in realtà sono davvero molto vicini. Nei piani urbanistici, come dicevo, di medio periodo abbiamo già in previsione delle ciclabili che arrivano lì, alcune ci sono già, perché se arriviamo da Sasso Marconi a Borgo Nuovo, a Borgo Nuovo è già in costruzione adesso e verrà un timata breve, già un tratto è utilizzabile, da Borgo Nuovo si può arrivare inciclabile praticamente quasi dentro la cittadella dello sport, dalla stazione Casalecchio, dal centro di Casalecchio invece mancano ancora dei tratti che sono previsti anche tramite alcune operazioni di rigenerazione urbanistica. Penso a Lexatu, non so adesso se tutti sanno di cosa sto parlando, perché bisogna conoscere un po' molto bene il territorio, però c'è una grossa azienda che appunto è dismessa già da molto tempo e nel piano urbanistico di rigenerazione di quello stabile c'è anche il rifacimento e dove manca proprio la costruzione della ciclabile per collegarsi al pezzo che c'è già e che va un pochino rinnovato che arriva alla cittadella, quindi io credo che assolutamente questo progetto sia in linea con la tempistica del cominciare a sensibilizzare almeno su questo tema, perché ho l'opinione che già oggi su Casalecchio più di una persona possa andare in bicicletta o con mezzi alternativi alla cittadella dello sport, certamente noi come amministrazione dobbiamo concludere tutti i percorsi di viabilità alternativa che sono previsti, però il fatto che non siamo all'anno zero ma siamo già in una fase di costruzione può secondo me aiutare tantissimi a aderire a questo progetto e appunto a essere partecipi e a cominciare a valutare delle possibilità alternative che poi sono spesso anche più veloci perché spesso si scopre che non è che perdi tempo, ne guadagni, questa è una cosa che penso che qua siamo quasi tutti d'accordo però il tema è quello, è far capire alle persone che non è che si perde più tempo, se ne guadagna di tempo perché spesso io quando parlo con le persone è questo il tema, diciamo io vado in macchina perché faccio prima soprattutto nel mio territorio che è uno dei più trafficati d'Italia per dove è collocato si fa molto prima girare a piedi e andare in bicicletta che non andare in macchina lo posso provare diciamo come... però nonostante tutto in molti si mettono in fila anche per i brevi tratti e questa invece secondo me è una delle sfide che dobbiamo prenderci tutti quanti insieme cioè gli amministratori, politica e anche il mondo sportivo perché poi anche già andando in bicicletta lì è già un modo per iniziare anche a fare sport, è certamente un modo più sano per muoversi Grazie Assessore e passiamo adesso a Daniele Mirani, Presidente Simurg Ricerche Io vengo giù perché devo leggere le slide Allora buonasera, io sono in dirittura d'arrivo insomma dopo il buffet anche prendere la parola insomma è complicato, speriamo bene insomma Voi datemi i tempi, voi datemi i tempi Allora, perfetto Allora io faccio parte di Simurg Ricerche con altri, mi chiamo Daniele Mirani con altri due colleghi che sono presenti Sergio Signanini e Tina Miglietta abbiamo curato per conto di WISP questa parte è già stata ricordata più volte del progetto e avevamo un obiettivo ben preciso quello di redigere quelli che abbiamo chiamato che WISP ha chiamato, che abbiamo chiamato insieme piani di spostamento casa sport e questo già vi dico che è un nome, è una definizione che non esiste prima di questa iniziativa non esisteva mentre invece, come vedremo tra poco esiste il nome piani di spostamento casa lavoro, casa scuola c'è una normativa specifica però di casa sport in questi termini non se ne parla ancora dovevamo redigere tre piani sperimentali per altrettanti impianti sportivi e poi un manuale per mettere in grado i comitati territoriali di anche in prospettiva operare autonomamente cioè fare da soli approcciarsi a questo tipo di pianificazione allora la prima cosa che quando è arrivata in Simurg questa richiesta ringraziamo la WISP per questo ha detto ci aiutate a fare questo tipo di pianificazione e noi ci siamo chiesti io personalmente ho detto ma di cosa stiamo parlando e quindi abbiamo cominciato a vedere, mettere lì due dati due cifre e che qui vi voglio anche riproporre per cominciare una brevissima premessa allora in Italia ci sono circa 12 milioni di persone che praticano attività sportiva lo vediamo qui da questa slide questi sono i dati del CONI e sono una fetta molto importante della popolazione veramente importante quindi abbiamo quasi 8 milioni di praticanti iscritti alle EPS e poi più di 2 milioni di atleti tesserati e quindi questo è il nostro punto di partenza allora la domanda successiva che ci siamo fatti dobbiamo fare i piani di spostamento casa sport ma come si muovono queste persone poi andremo noi abbiamo fatto un'analisi siamo andati presso gli impianti eccetera ci siamo dati delle risposte però dovevamo partire da qualcosa e ecco questo è un po' stato un altro nostro punto di partenza allora come si spostano i 12 milioni di atleti praticanti cosa ci dicono le statistiche i dati ufficiali questi sono i dati ISFORT al 2021 ci dicono che innanzitutto ci danno le motivazioni degli spostamenti vedete qui le persone la popolazione si sposta in Italia per motivi di lavoro e studio circa il 32% per motivi di gestione della vita familiare in particolare qui si muovono le donne e sono molto più green degli uomini quando fanno questo tipo di spostamenti vi dico anche sono circa il 34% degli spostamenti e poi il 34% quindi una fetta più o meno simile vedete il diagramma qui si divide in tre sezioni più o meno uguali per il tempo libero ci si sposta per il tempo libero e qui ricado negli spostamenti casa sport per lo sport poi dobbiamo fare un ulteriore passaggio ma poi le statistiche ci dicono anche con che mezzi ci muoviamo noi che mezzi utilizziamo e vediamo che il 62% di tutti questi spostamenti di questa torta avviene in maniera e qui un po' cominciamo a approcciarci al problema in maniera non sostenibile cioè con le auto a motori motori diesel motori a benzina eccetera auto private e quindi questo è un fenomeno che diciamo genera poi alla fine tutta una serie di aspetti negativi il resto degli spostamenti vedete sono la bicicletta 4% mezzi pubblici 5% e a piedi circa il 30% quindi possiamo ragionevolmente dire come dicevo che questa grande importante fetta di popolazione si sposta in maniera proprio non tanto adeguata nella logica della mobilità sostenibile ok andiamo avanti velocemente che non ci muoviamo benissimo ce lo dice anche l'ISTAT questo probabilmente è un dato che conoscete però l'ISTAT ci dice guardate in sostanza tutti i giorni per motivi di lavoro e studio si muovono circa 30 milioni di persone in Italia e la grande la stragrande maggioranza 25 milioni di persone quindi 2 su 3 si muovono con un'automobile ok questo è un po' il nostro da qui dobbiamo partire andiamo avanti velocemente tutto questo quindi il traffico veicolare generato da questi spostamenti impropri insomma fatti con mezzi non propriamente sostenibili genera un problema che è nelle agende delle organizzazioni partendo dall'obiettivo 11 della dell'agenda 20-30 uno dei temi da affrontare e da risolvere quindi questo è uno degli obiettivi specifici che a livello internazionale le organizzazioni si stanno dando proseguo in Italia come sapete torno un po' a una questione che ho accennato in precedenza per far fronte a questo problema vado avanti un po' velocemente facendo anche un po' dei salti però il tempo è quello che è in Italia si è deciso si sta intervenendo sull'aspetto dell'offerta di mobilità si sta cercando di migliorare l'infrastruttura ciclabile l'infrastruttura pedonale e così via a livello urbano e così via però si agisce anche sul lato della domanda ok e quindi si sono negli ultimi due anni in particolare per vari motivi anche legati alla pandemia si è consolidata una normativa vecchia che peraltro esisteva dal 98 che impone questo è importante alle aziende e agli enti pubblici e così via di predisporre un piano degli spostamenti casa lavoro e di diciamo identificare un mobility manager questo perché bisogna agire su appunto questi aspetti anche culturali cambiare questo modello di mobilità ok non rientrano quindi negli obblighi normativi gli impianti sportivi quindi qui però la riflessione allora perché WISP decide di intraprendere questa strada e c'è la vera sfida cioè andare in una direzione sperimentale non è ancora stato fatto perché le motivazioni sono da ricercare non tanto negli obblighi di legge negli obblighi normativi ma ad esempio rispetto alla sostenibilità ambientale una riflessione che poi abbiamo avuto modo di fare insieme con i nostri referenti presso WISP e la riflessione è questa differenziamo i rifiuti non usiamo le bottigliette di plastica non le buttiamo più via abbiamo tutta una serie teniamo tutta una serie di comportamenti sostenibili anche negli impianti sportivi però andiamo verso l'impianto sportivo in prevalenza con i mezzi privati e a benzina generando tutto un insieme di impatti negativi la funzione educativa dello sport probabilmente è molto più efficace intraprendere azioni strategiche per cambiare per far capire ai giovani bambini e ragazzi come ci si deve muovere all'interno degli impianti quindi soprattutto facendo leva su il fattore carismatico che hanno gli allenatori e così via che non forse nella scuola noi lavoriamo da anni sui piani di mobilità scolastica e questo lo possiamo dire ragionevolmente quindi questo il lavorare presso gli impianti sportivi è un asset importantissimo per il cambiamento culturale e ancora l'impegno di WISP sulle tematiche ambientali è noto sulle tematiche della mobilità io ho citato qui una delle manifestazioni nazionali più importanti che è bici in città che proprio esalta che va in questa in questa direzione un altro aspetto fondamentale magari che viene colto meno però avrà sempre secondo noi un'importanza rilevante è l'importanza di questo tipo di pianificazione nel nel contesto della pianificazione urbanistica della mobilità voi sapete benissimo che esiste presso i comuni un obbligo di predisporre dei piani urbani della mobilità sostenibile la mobilità verso i centri sportivi è una fetta importantissima della mobilità bisogna che queste politiche di mobilità all'interno diciamo degli impianti eccetera rientri a nostro parere anche in questo tipo di pianificazione e ci sia soprattutto il fattore fondamentale uno scambio continuo di dati di dati ad esempio sulle abitudini di spostamento dei giovani che le amministrazioni possono avere in questo tipo di studi legati alla mobilità degli impianti sportivi poi ci sono dei vantaggi concreti qui ne ho elencati alcuni allora li vedete la riduzione dell'inquinamento atmosferico in generale questo l'abbiamo già detto prima benefici in termini di sicurezza intorno agli impianti sportivi però intorno anche nelle aree dei quartieri che magari ospitano questi impianti perché nel momento noi abbiamo analizzato degli impianti dove migliaia di persone diciamo quotidianamente vanno e vengono dall'impianto e possono generarsi delle situazioni di rischio quantomeno quindi mettere a regime questo tipo di situazioni la riduzione della congestione stradale e poi la riduzione come dicevo la stessa le tempi di trasporto su brevi distanze 2-3 chilometri è molto più conveniente andare a piedi o in bicicletta che non usare la macchina quindi questo tralascio gli altri aspetti intanto più o meno andiamo avanti allora da qui l'idea di predisporre questi strumenti di pianificazione questo vedete la versione qui ne è stata distribuita una qui c'è già una versione più evoluta con una certa grafica che mi sono permesso di inserire nelle slide quindi abbiamo predisposto questi strumenti di pianificazione no sono andato perfetto come sono costruiti come sono concepiti abbiamo tenuto come punto di riferimento le linee guida del ministero per la redazione dei piani di spostamento casa lavoro esi sono delle linee guida che ci dicono cosa dobbiamo fare quindi questo in estrema sintesi sono quattro i prodotti finali che abbiamo noi predisposto dicevo prima il manuale e i piani di spostamento gli impianti sono Casalecchio di Reno la cittadella dello sport l'impianto Fulvio Bernardini di Roma e l'impianto di Bari questi impianti hanno caratteristiche adesso non entrano in merito sostanzialmente differenti quindi la WISP ce li ha dati perché rappresentano appunto è uno studio sperimentale e hanno caratteristiche differenti tra di loro un esempio velocissimo Casalecchio di Reno è questa città proprio dello sport posizionata leggermente fuori il contesto urbano mentre invece Roma è un'altra città perché è enorme anche quell'impianto però dentro il quartiere di Pietralata quindi abbiamo partendo anche dalla localizzazione due situazioni molto differenti poi per portare avanti il nostro studio abbiamo costruito un quadro conoscitivo a partire da tutta una serie di informazioni che ci hanno dato i gestori degli impianti noi gli abbiamo rotto le scatole per telefono datici dati fornitici gli archivi quindi è stata una grande collaborazione in questo senso abbiamo fatto analisi statistiche analisi cartografiche e poi siamo arrivati a dare delle linee guida delle linee progettuali per migliorare appunto gli aspetti legati alla mobilità questo è un esempio io ho le slide di tutti e tre gli impianti ma oggi siamo qui in casa a Bologna facciamo vedere questo anche perché se no è finita non vi preoccupare mancano solo tre slide non faccio veloce qui c'è un esempio c'è una ricostruzione come? non siamo insomma noi partiamo da una ricostruzione cartografica anche la perimetrazione dell'impianto è stato un problema perché non si capiva è enorme vi ripeto come è stato accennato l'impianto ha delle aree ben definite delle aree sportive e noi siamo partiti da questo proprio per la nostra ricostruzione dei dati e così via quindi c'è una parte tennis una parte quella del palazzetto Cabral la palestra il campo OCR più gestita dalla cooperativa Masi poi abbiamo l'area calcio delle aree diciamo non tanto sportive però importanti come il mini autodromo così che sono e la parte del circuito ciclistico abbiamo ricostruito la situazione in base ai dati che ci sono stati forniti vedete ad esempio è molto interessante poi andare a splittare quelle che sono le fasce orarie di massima affluenza rispetto agli impianti no? una cosa perché questo? perché se io un domani voglio andare a chiedere al comune di riferimento quindi all'assessore una linea di trasporto pubblico più diciamo adeguata per l'impianto mi interessa dire guardate io ho un'ora di punta tra le 17 e le 19 del venerdì dove in quel momento ci sono 500 persone potrebbero essere utenti che possono essere spostati sul trasporto pubblico quindi questo perché si fa questo tipo di analisi è questo abbiamo fatto un'analisi sulle provenienze quindi questo impianto è un impianto molto interessante perché non riceve solo utenti da il casalei quindi locali da casalecchio di Reno sono circa 40% ma poi da tutta la vallata del Reno quindi interessante anche questo e questi sono tutti problemi per la mobilità perché molte persone probabilmente quando escono dal lavoro magari abitano in comuni circostanti devono rientrare a casa e vanno a fare sport quindi la complessità vedendo questa carta si capisce anche proprio la complessità di andare a pianificare un impianto sportivo perché se io pianifico una scuola o un'azienda sono elementi abbastanza circoscritti in questo caso è proprio una città una cittadella perché ho tante funzioni sportive al suo interno poi ho una ristorazione ho un ristorante ho un bar ho utenze diverse le scuole la mattina le persone più diciamo che fanno sport più atleti che insomma che vengono di pomeriggio le scuole di calcio eccetera è molto complicato mettere tutto insieme anche per sto guardando la raccolta dei dati perché qui non c'è solo la cooperativa Masi ma ci sono anche altri soggetti che collaborano ovviamente però è anche complicato andare a chiedere i dati andare a somministrare un questionario e così via vado a concludere vabbè questi sono tutti gli altri impianti scusate questo no ok allora i dati cosa è emerso voi vedete abbiamo detto all'inizio il 62% probabilmente va a fare sport in auto no qui i dati purtroppo ma non è un problema del centro di Casalecchio sono sotto l'aspetto della mobilità sostenibile sono peggiori vedete chi utilizza l'auto per andare all'impianto sono quasi il 90% l'87% delle persone l'impianto è penalizzato sotto questo aspetto perché è a circa un chilometro e mezzo dal paese ripeto è un impianto bellissimo ben gestito ordinato però per arrivarci c'è una strada c'è anche una pista ciclabile ma è lontana è fuori mentre invece l'impianto a Roma è nel quartiere quindi qui abbiamo l'87% di persone che arrivano in auto tutto il resto dei mezzi di trasporto bicicletta trasporto pubblico hanno percentuali residuali che insomma quindi questo e se voi vedete quello che diceva prima l'assessore quel grafico la percentuale di coloro che utilizzano l'auto persone che abitualmente hanno dichiarato di venire in auto però per distanza quindi le persone che dicono io utilizzo l'auto però abito a fino a scusate non ci leggo un chilometro e mezzo sono 27% ok ora un chilometro e mezzo è una distanza che può essere percorsa agevolmente da un atleta anche a piedi perché insomma non è che però in bicicletta sicuramente se poi noi pensiamo alle biciclette a pedalata assistita si può arrivare anche nella fascia dei 5 chilometri quindi questo è un po' il ragionamento che si fa quando facciamo questo tipo di analisi e considerazioni tanti vedete la propensione al cambiamento di coloro che vengono in auto sarebbero disposti a cambiare modo di spostarsi vedete in bicicletta il 38% col trasporto pubblico il 54% il carpooling il 60% a condizione ora qui non c'è nel grafico che però ad esempio la rete ciclabile sia sicura sia illuminata e così via questi problemi in linea di principio li troviamo in tutti gli impianti che abbiamo analizzato e li troviamo vi dico anche in tutte le scuole in tutte le aziende questo è un po' il polso della situazione eccetera abbiamo anche messo dentro le nostre considerazioni degli obiettivi da raggiungere perché un piano viene a mettere gli obiettivi di arrivo che vogliamo raggiungere nell'arco dei 5 anni e questi risultati vanno monitorati quindi abbiamo detto ad esempio che se ora il moda split vedete è che l'87% utilizzano l'automobile nei prossimi 3-5 anni questa percentuale dovrebbe abbassarsi al 60% l'abbiamo fatto anche per il resto dei medi di trasporto in bicicletta ci arriva il 3% speriamo lavorando in un certo modo che ci arrivi il 12% delle persone questo è un po' come in fondo ho messo le strategie che sono ecco allora come fare vi elenco le strategie in maniera molto veloce la prima è il carpooling cioè la macchina condivisa è un modo di spostarsi che viene già utilizzato da tantissime persone però con un'adeguata campagna di comunicazione con tutta una serie di strumenti che gli impianti hanno deciso di mettere in pratica quindi parcheggi riservati tutta una serie quindi di attività anche promozionali verso questa diciamo modalità di trasporto si spera di incentivare e quindi eliminare auto dalla circolazione perché il carpooling ha questa finalità poi abbiamo l'utilizzo del trasporto pubblico quindi qui sono l'esempio è su Roma perché non sapevo se c'era qualcuno quindi allora qui ma lo stesso anche per Casalecchio passa già una linea di autobus presso l'impianto però di aumentare il diciamo e migliorare il servizio di trasporto pubblico per invogliarne l'utilizzo e promuovere l'utilizzo della bicicletta con tutto un sistema di premialità per i ciclisti che vada a trovare delle condizioni dentro l'impianto che accolgono il ciclista e la bicicletta come ad esempio rastrelliere coperte insicurezza e così via e poi anche un modo una serie di indicazioni per accogliere il ciclista banalmente un cartello quando tu arrivi che ti dice questo impianto è a misura di ciclista vai entra vai a sinistra e troverai tutta una serie di attrezzature che ti possono aiutare per questo e poi un'iniziativa cioè l'utilizzo di un'app che diciamo poi garantisce dei premi agli utilizzatori se si muovono in maniera sostenibile con un punteggio e dei premi messi a disposizione finisco con una cosa questa che è un po' questa io ho sentito vi esorto ad andare su TEDx a sentire Penolosa che è stato il sindaco di Bogotà nel 2000 e ha detto questa frase che per me è sempre stata un'ispirazione lui dice le città moderne crescono diventano sempre più ricche ma la mobilità va sempre peggio questo lo diceva nel 2000 ora poi si è fatto tanto e così via e dice una città progredita non è quella in cui anche i poveri utilizzano le automobili ma piuttosto una in cui i ricchi utilizzeranno il trasporto pubblico per una questione di democrazia lui dice ho finito e non so se sono rimasto nei tempi grazie grazie passiamo all'ultima delle relazioni previste terzo panel Francesco Moledda project manager di fondazione Unipolis grazie buonasera a tutti grazie per l'invito inizio facendo una domanda nel senso cosa ci fa la fondazione di impresa di un gruppo assicurativo in questo tavolo devo dire che il fatto di venire dopo il presente di Simburg mi fa particolarmente piacere perché anche noi col progetto che vi presento adesso o meglio un video che sicuramente lo spiega meglio di me vi presenterà adesso anche noi cerchiamo di andare in quella direzione cioè di cambiare quelle cifre che abbiamo visto di spostamenti insostenibili soprattutto noi lo facciamo lavorando con i giovani allora una premessa è doverosa anche per essendo l'ultimo intervento ritornare un po' anche a quello che è stato detto all'inizio cioè il fatto che l'ASVIS è stata fondata proprio da Fondazione Unipolis insieme all'Università di Roma Torvergata nel 2016 e quindi in qualche modo tra l'altro il presidente dell'ASVIS è il presidente di Unipolis quindi ci aiuta a tenere dritta la barra su quelli che sono gli obiettivi dell'Agenda 2030 ma perché lo sport cioè perché siamo siamo qui oggi perché con il progetto MOB della nostra area mobilità facciamo un salto rispetto a quello che abbiamo fatto finora noi dobbiamo per natura fare cultura del rischio sulla strada e proprio dalla fondazione dell'ASVIS in poi siamo sempre più dentro l'area della sostenibilità del nostro gruppo e questo ci permette di in tutto quello che facciamo lo ripeto in particolare con i giovani adesso vedrete perché lo facciamo cercando di declinare insieme i due concetti di sicurezza stradale e mobilità sostenibile proprio nel senso che se non c'è l'uno non c'è neanche l'altro sono impreenscindibili non si può fare altrimenti questo perché ricordo che prima si parlava proprio di cambio di paradigma io aggiungo un cambio di lessico allora fu se vi ricordate quando si parlava dei pedoni dei ciclisti anche dei motociclisti dei ciclomotoristi si parlava come di utenti deboli della strada quindi quasi come che il loro pericolo fosse derivato dal fatto che hanno una debolezza intrinseca ed è un concetto terribile allora dopo si è passato a definirli utenti vulnerabili quindi che presentavano una condizione di vulnerabilità adesso Matthew Boldin della commissione europea che si occupa proprio di sicurezza strada e mobilità sostenibile li definisce utenti che creano valore proprio perché muovendosi generano un valore per la comunità in termini di impatto ambientale in termini e quindi come tali mi ricollego vanno anche in qualche modo premiati gli va restituito il valore che generano con però la doverosa precisazione perché è giusto non si può pensare che le nostre città che peraltro sono anche state costruite non col fine di avere solo ciclisti e pedoni anzi tutt'altro anche essi come tutti gli altri hanno dei diritti e dei doveri che devono rispettare quando si muovono tenendo presente sempre una multimodalità e un'integrazione dei mezzi che è quello che noi cerchiamo di promuovere cioè ognuno deve capire che ha il diritto di muoversi come meglio crede ma se qualcuno si muove in modo diverso nel rispetto delle regole deve essere rispettato e tutelato però tornando tornando a noi quello che abbiamo proposto insomma stiamo cercando di promuovere con Mob dicevo appunto un salto perché perché di solito noi lavoriamo negli ambienti dove è più facile lavorare con i giovani cioè nelle scuole allora con questo progetto cerchiamo di andare nei luoghi diciamo extrascolastici dove i ragazzi vivono il loro tempo libero e quindi lo sport chiaramente è al centro occupa tanto del loro tempo libero e questo ci permette anche di trovarli in una condizione diciamo di volontà mentre a scuola visto che sono in età quando li intercettiamo noi sono nella scuola dell'obbligo ovviamente sono quasi costretti non si parlava delle ore di educazione civica possiamo fare mille progettualità su quel tema regalare PCTO ore di PCTO i docenti non aspettano altro e questo ovviamente è assolutamente da fare ma se invece proviamo a coinvolgerli quando non sono a scuola che cosa succede? riusciamo a cambiare quelle cifre di cui si parlava prima come provare a farlo? allora noi ci siamo inventati Mob e adesso chiederei alla regia se può far vedere il video magari anche spegnendo quale luce l'evoluzione dell'uomo è da sempre connessa al movimento è un concetto che cambia nella storia e nel tempo è un'azione quotidiana che ci coinvolge tutti e che impatta sulle nostre comunità in termini di ambiente salute e spazio pubblico oggi non si può immaginare il futuro della mobilità senza coinvolgere chi ne sarà il protagonista è tempo di sensibilizzare responsabilizzare e stimolare i giovani sui temi della mobilità sostenibile è tempo di dare voce alle loro idee attraverso opportunità formative e di sviluppo di competenze trasversali è il momento di ascoltare ciò che hanno da dire nasce MOB MOB Movimento in rivoluzione è il nuovo progetto di fondazione Unipolis dedicato a ragazze e ragazzi pronti a sfidarsi a colpi di mobilità sostenibile e a misurarsi prima di tutto con se stessi nel generare idee rivoluzionarie e proposte concrete per il loro futuro e tu vuoi partecipare al cambiamento? MOB è un percorso che si sviluppa in tre fasi fase 1 la mobilità sostenibile è un gioco di squadra se hai più di 16 anni coinvolgi i tuoi amici e iscrivi la squadra al torneo MOB attraverso l'app Move Game inizia a raccogliere punti muovendoti con mezzi sostenibili per vincere premi collettivi e individuali fase 2 coltiva una nuova idea di movimento partecipa al Camp Festival di MOB aperto a 50 giovani dai 16 ai 21 anni avrai l'opportunità di prendere parte a tre giorni di incontri ispirazionali e formativi e di elaborare idee visionarie e proposte innovative per rivoluzionare il modo e il mondo in cui ci muoviamo ma non finisce qui fase 3 metti in moto la rivoluzione della mobilità sostenibile dieci idee visionarie incontreranno un pubblico in un grande evento nazionale dedicato alla mobilità del futuro tre proposte concrete saranno discusse in altrettanti comuni italiani attraverso il coinvolgimento e la coprogettazione con cittadini e istituzioni siete pronti a diventare protagonisti del cambiamento? siete pronti ad accettare la sfida di MOB? parte da un gioco tra virgolette in realtà perché è un gioco che ha una competizione che ha anche dei insomma dei adesso nel video non è spiegato però le squadre faranno delle masterclass sulla mobilità sostenibile dei momenti di approfondimento durante il torneo che partirà nella prossima primavera proprio per agevolare anche il momento dell'anno in cui gli spostamenti sostenibili sono più frequenti che ci permette di creare questo grande bacino allora la squadra della classe la squadra della scuola calcio la squadra dell'oratorio la squadra di qualunque organizzazione giovanile che vi venga in mente può iscriversi a questo torneo e creiamo questo grande bacino di giovani tra l'altro alla prima fase può partecipare anche l'allenatore l'allenatrice l'insegnante di danza cioè può accompagnare i ragazzi anche in questo in questa competizione ci sono dei premi individuali per i ragazzi insomma poi li potete vedere sul nostro sito di fondazione Unipolis appunto basta lo trovate subito comunque anche se cercate mob Unipolis lo trovate viaggi per giovani buoni ticket one insomma tutto ciò che può più interessarli e però la cosa che invece mi permette sottolineare è appunto i premi per la collettività per la realtà che rappresentano appunto che sia la scuola o che sia l'organizzazione extrascolastica dei premi che arrivano possono arrivare anche a 7000 euro per microinterventi per il benessere di quella comunità pensate alle attrezzature insomma piccoli interventi sulla struttura insomma quindi c'è un risvolto positivo e poi tutta la seconda parte che siamo ancora lontani ma vedrà la luce alla fine del torneo quindi dopo l'estate 2023 in cui si cercheranno queste queste dieci idee visionarie che troveranno un palco importante su cui stiamo lavorando proprio dieci idee visionarie sulla mobilità del futuro senza limiti chiaramente anche qua accompagnati in un percorso formativo ecco non dal niente ecco questi ragazzi lavoreranno proprio anche in termini di public speech cioè proprio faranno un percorso completo e infine quelle tre proposte concrete sono due filoni del bando tra cui possono scegliere i candidati tre proposte concrete che poi andremo a discutere nelle tre città oggetto di quelle proposte mettendo insieme appunto l'amministrazione gli sticord del territorio per cercare di sviluppare una cosa a quel punto sì anche visionaria ma molto concreta e molto specifica su quell'area urbana scelta dal candidato insomma questo in estrema sintesi è quello che cerchiamo di fare con Mob l'invito che appunto ringrazio Salvatore Farina per insomma avermi in prima persona invitato a questo incontro e che rinnovo è quello che anche la WISP aderisca a questo progetto cioè lo possa in qualche modo sposare in termini di occasione che noi offriamo per il suo pubblico faremo la stessa cosa con l'ASI la prossima settimana l'abbiamo già fatto con Sport e Salute insomma è questo per il mondo sport e poi c'è tutto il mondo extrasportivo diciamo che va di pari passo e l'idea è proprio di creare una grande rete che possa sposare sposare Mob e speriamo di avere tante squadre che vengano dalle vostre realtà insomma grazie grazie davvero Francesco Moledda abbiamo qualche minuto per domande considerazioni se ce ne sono prego però devi avvicinarti col microfono l'albero è l'invenzione più rivoluzionaria per l'invenzione più rivoluzionaria è la bicicletta cioè il problema è riuscire io sono della Simurg e ho collaborato con 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 Daniele per questa redazione il problema è che molti giovani non sanno andare in bicicletta fino a 14 anni la bicicletta è il mezzo di trasporto desiderato nelle nostre città è difficile andare in bicicletta allora io volevo fare anche una proposta in Francia stanno introducendo le case della bicicletta e l'istruttore per insegnare ad andare in bicicletta credo che sia una cosa molto importante perché la bicicletta se si impara finché si è bambini poi resta tutta la vita quindi insegnare e fare di Wisp e dei centri sportivi della Wisp dei luoghi dove poter imparare ad andare in bicicletta in sicurezza perché quando muore un ragazzo andando in bicicletta si riempiono le pagine di giornali ma se si insegna ad andare in bicicletta da bambini poi si impara la sicurezza sulla strada credo che sia importante questo e credo che Wisp con l'iniziativa che ha fatto Bicicità e così può farsi promotore di questo grazie l'invito è in linea con quanto abbiamo discusso oggi pomeriggio ci sono altre considerazioni domande se no Francesco Turrà per qualche se vuoi qualche considerazione conclusiva una considerazione conclusiva diciamo si preste il tema è come dire un tema ricorrente che è tornato molto spesso oggi cioè tutte queste azioni hanno bisogno come dire di un approccio radicale cioè le città e in questo secondo me è l'impegno massimo che Wisp può esprimere in quanto come dire soggetto che rappresenta i bisogni dei suoi iscritti ma che può fare anche rete fra gli altri soggetti è che quello che le città vanno ridisegnate in funzione dei bisogni e la mobilità sostenibile è il come dire la cartina torna sole di questo di questo esempio perché non basta fornire strumenti non basta fornire infrastrutture se non si ricostruiscono le città sulla persona sui suoi bisogni e sul fatto che sia più facile accedere a quei bisogni perché quando noi diciamo c'è bisogno di infrastrutture viarie c'è bisogno di sicurezza questo non può avvenire se comunque la viabilità è comunque pensata per le automobili o come spesso ci ritroviamo a discutere del fatto che per quanto possiamo magari elettrificare i processi decarbonizzarli non funzioneranno se comunque una persona un'auto cioè c'è bisogno di un approccio che che stravolga questi paradigmi ma in maniera radicale come dire ammettendo gli errori del passato e quindi cercando di capire dove si può intervenire nella ricostruzione di un sistema che effettivamente guarda la persona partendo proprio dall'ambiente urbano che è quello dove quotidianamente le persone sviluppano la propria vita grazie grazie a te grazie a te Francesco siamo praticamente nei tempi e qualche minuto di ritardo ma abbiamo recuperato bene Tiziano Pesce a te il compito se vuoi di tirare le fila e più che altro prego mettiti qui più che altro di salutarci ecco dopo questa giornata faticosa grazie grazie Ivano nuovamente ovviamente colgo l'occasione per come faccio spesso magari non sarà correttissimo ringraziamenti in casa in questo caso anche il nostro ufficio stampo e comunicazione che come accade sempre segue con molta attenzione i nostri appuntamenti perché poi è importante documentare i nostri lavori documentarli per continuare ovviamente nell'impegno associativo ma anche per ovviamente avere materiale documentazione per rafforzare sempre il nostro compito di advocacy e di nostro dovere di rappresentanza come diceva poco fa Francesco nei confronti primariamente del nostro corpo associativo della nostra rete associativa ma anche ecco per il nostro diciamo ruolo ecco che va oltre anche i confini il perimetro sempre di più della nostra associazione come soggetto di cittadinanza attiva mi diceva Ivano mi attengo alle sue consegne un saluto e un ringraziamento un pomeriggio sicuramente faticoso nel senso impegnativo ma fruttuoso un ringraziamento a tutti i nostri non li chiamo ospiti tutti i nostri compagni di viaggio che oggi hanno portato testimonianze e contributi concreti fattivi io credo senza retorica di poter affermare per andare a rafforzare quel nostro ragionamento quel nostro percorso aperto quel nostro laboratorio di transizione sportiva che abbiamo declinato ancora di più oggi sotto tanti punti di vista ovviamente tenendo barra dritta sul tema della transizione ecologica della rigenerazione urbana e delle sfide delle opportunità delle soluzioni io credo ecco che sia importante sottolineare come questa associazione tutta con un grande sforzo dei nostri dirigenti del nostro territorio non solo del livello nazionale sia sempre più nella condizione di quantomeno provare e credo che ci si riesca come dire anche abbastanza bene permettetemi questa presunzione quantomeno da condividere non solo nel ragionare sui problemi nel mettere in evidenza i problemi ma cercare ecco tutti insieme in un percorso collaborativo di trovare soluzioni e spesso di trovarle partendo da sfide importanti anche in questo ultimo panel io ovviamente mi scuso per poi non aver potuto seguire interamente i lavori ma recupererò grazie ai nostri responsabili delle politiche all'ufficio stampa e comunicazione come dicevo prima anche grazie ai materiali e alla registrazione di tutto il pomeriggio però io credo che ecco sia importante sottolineare come oggi a partire dal primo diciamo dall'apertura del pomeriggio ci siano arrivate testimonianze di riconoscimento importante nei confronti della nostra associazione ripeto della nostra rete associativa io ho potuto scambiare alcune diciamo battute anche abbastanza in profondità poi con la presidente dell'istituto per il credito sportivo con Antonella Baldino ma con Pierluigi Stefanini e voglio dire oltre riconoscimento importante della nostra associazione arriva una disponibilità ulteriore importante continuare a ragionare con noi poi lo diremo lo dirò avrò modo di diciamo di entrare nel merito di questo domani in occasione del nostro consiglio nazionale ma vi faccio solo come dire questo esempio questa anticipazione noi come WISP tenendo ovviamente i temi su quello che abbiamo discusso oggi come WISP abbiamo avuto diciamo nelle ultime settimane il sostegno il riconoscimento di un'altra progettualità di ricerca da parte di sport e salute sul tema dell'impiantistica un preciso impegno di questo mandato un lavoro portato avanti con il nostro responsabile della delega quindi con Mauro Rozzi che è intervenuto oggi ovviamente quando è partito questo percorso Mauro poi è arrivato il ciclone della pandemia però il tema l'abbiamo portato avanti ha ottenuto riscontri anche da questo punto di vista e quindi nei prossimi mesi partiremo con un progetto di ricerca sull'offerta dell'impiantistica ma soprattutto sul tema dei servizi quindi non un censimento come dire sterile di come ce ne sono sappiamo tanti in tutte le regioni italiane partendo dai fabbisogni della pratica sportiva su questo avevamo già avuto modo di avere un'interlocuzione con l'allora presidente dell'istituto oggi ministro Bodi che ha confermato comunque tutto l'interesse quindi andremo come dire con questo anche da Andrea Bodi nel suo nuovo ruolo ma oggi abbiamo avuto la piena disponibilità della presidenza della neopresidenza dell'istituto a entrare nel merito e ragionare come dire di questo nei prossimi nei prossimi mesi quindi questo è proprio un'anteprima delle chiacchierate che abbiamo che ha potuto fare a margine dell'incontro dell'incontro di oggi io credo che oggi si sia fatto un lavoro importante proprio per interpretare la fase storica che abbiamo che purtroppo stiamo stiamo vivendo dico purtroppo ma nello stesso tempo anche ragionando in termini di opportunità credo che questa associazione sempre più e ancora una volta dico con l'impegno di tutti passi cerchi di passare sempre dalla teoria alla pratica e credo che ecco la politica del rinvio per chiudere con una battuta sul lavoro di ASVIS che ci vede appunto coinvolti lo dicevo oggi in apertura tre giorni fa c'è stata l'assemblea che ha diciamo rinnovato o meglio confermato appunto Pierluigi Stefanini alla copresidenza dell'alleanza ha rinnovato ecco ha aggiornato il piano di lavoro per il 2023 abbiamo sentito tutti insieme le parole di Stefanini di oggi quindi non devo certo ripeterle io ma ecco un appunto che mi sono preso nel pomeriggio rispetto proprio anche ai dati che l'alleanza ha pubblicato nei giorni scorsi attraverso il cosiddetto report e rapporto ASVIS territori la politica del rinvio non è più accettabile per contrastare i divari territoriali di disuguaglianza in aumento servono a coerenza delle politiche e processi democratici e credo che questo sia un punto importante per noi su cui sicuramente continuerà il dovere di rappresentanza nei confronti delle istituzioni partire ovviamente per quanto riguarda il livello nazionale la mia diciamo rappresentanza del livello nazionale nei confronti del nuovo governo nei confronti delle forze parlamentari e ovviamente però ancora una volta come dire condividendo l'impegno dei nostri regionali colgo l'occasione per rilanciare lo faccio spesso un appello ai nostri snodi regionali i nostri presidenti regionali perché questo lavoro va fatto ovviamente anche sui territori va continuato anche sui territori nel rapporto con le regioni nel rapporto con le istituzioni locali quindi grazie veramente ancora a tutti e a tutti che ha avuto l'opportunità di seguirci oggi in sala che ci ha seguito i nostri dirigenti i nostri operatori coinvolti nei ricordiamo nelle 15 nelle 16 regioni nei 26 comitati territoriali coinvolti e ovviamente appunto tutti i nostri partner e ancora un ringraziamento con un ringraziamento in casa per le nostre politiche per la progettazione soprattutto non me ne voglio attore che è responsabile soprattutto al nostro ufficio progetti a Marta Gianmaria responsabile dell'ufficio progetti a Silvia Saccomanno che ci segue per motivi familiari a distanza grazie sì la coordinatrice del progetto ovviamente ecco siamo noi della WISP un po' stalker quindi le disponibilità che anche voi ci avete rinnovato ovviamente le terremo molto presenti quindi grazie ancora e ovviamente non da ultimo grazie a Francesco Turrà un giovane della nostra associazione che da alcuni mesi ha assunto questa responsabilità importante strategica sulle politiche ambientali quindi grazie per il lavoro che stai facendo e anche per quello che abbiamo potuto ascoltare oggi grazie ancora a tutti a tutti grazie a tutti grazie a tutti